Otto giorni di emozioni e gare all'aeroporto Giuliana Tamburro di Preturo, con la prima competizione internazionale di volo a vela che si è svolta dopo tanti anni, grazie all'organizzazione dei gestori, la Sarraes Aviation e l'aeroclub Gran Sasso. Si è trattato del trofeo Città dell'Aquila Ferruccio Zecca, i migliori piloti di tutta Europa, una quindicina, si sono sfidati in quello che ha definito il santuario del volo a vela. Lo scalo per la sua posizione consente infatti di poter volare nelle migliori condizioni possibili, presenti anche i piloti provenienti dalla Nuova Zelanda. Una competizione internazionale questa è importante, che caratteristiche ha? È una competizione di alianti, carattere internazionale, abbiamo piloti anche che vengono dalla Nuova Zelanda, noi con quest'aeroclub Gran Sasso d'Italia Ferro Piluddu cerchiamo di far rinascere il territorio dal terremoto anche attraverso il nostro meraviglioso sport. Devo affermare con assoluta certezza oltretutto che questa area con queste montagne ha delle caratteristiche aerologiche per il volo a vela uniche e eccezionali in tutto il mondo. E questo è un argomento che va valorizzato, cioè zone così eccezionali come qui nelle montagne dell'Aquilano e dell'Abruzzo non esistono in nessun'altra parte del mondo. Qui riusciamo a fare dei temi importanti con delle velocità importanti, proprio per le favorevoli condizioni aerologiche che ci sono. Ecco, i migliori piloti ma anche macchine importanti, insomma, si sfideranno sul cielo. Sì, abbiamo macchine poco più che amatoriali ma abbiamo anche macchine veramente importanti, è il top della tecnologia del volo a vela, sono macchine con delle caratteristiche diciamo importanti. Una macchina da competizione costa come un appartamento, ecco adesso questo per dare l'idea della tecnologia che abbiamo usato in queste macchine. Senza motore riusciamo a fare anche medie intorno a 150-170 km all'ora su percorsi di 300-400 km. Ecco, lei prima parlava dell'aeroporto, questo può essere considerato anche proprio un santuario del volo a vela. La competizione internazionale sarà una vetrina molto importante? Senz'altro, infatti sia l'aeroclub richiamano Ferro Piludo che è stato un grosso maestro di tutti e di tante generazioni di volo a vela, sia di Ferruccio Zicca che è quello che ha portato, il compianto Ferruccio che ha portato per primo il volo a vela qui in questo territorio, in questo aeroporto e a lui è dedicata questa competizione. Come si svolge la competizione? Nel senso, i piloti che cosa devono fare? Che obiettivi devono raggiungere? C'è un percorso immagino che viene tracciato prima? Sì, esatto, ogni giorno sarà un percorso diverso nel quale noi definiamo un punto di partenza e delle boi virtuali che i concorrenti devono raggiungere e girare virtualmente e un percorso di velocità, quindi vince chi è che ha fatto più velocemente questo percorso. Non avendo motore non abbiamo una linea diretta in questi punti di virata e quindi ognuno sceglie a seconda della condizione meteo il percorso migliore da fare. Noi volando senza motore siamo obbligati a fare quota e una planata verso la termica successiva. Chi è che riesce a farlo più velocemente arriva per primo. Ecco, sono percorsi che si stabiliscono giorno per giorno? Sì, sono percorsi che si stabiliscono giorno per giorno perché è molto importante la meteo. Noi siamo legati alle condizioni meteorologiche, il vento da dove tira, se piove o non piove, se ci sono delle convergenze particolari, quindi noi scegliamo a seconda della meteo il percorso più valido e a seconda anche della giornata di farlo più corto oppure più lungo. Quindi anche il decollo, ad esempio l'orario del decollo, per farci capire, si decide in base a quelle che sono le condizioni di brezza, ad esempio, di quel momento? Esatto, ovviamente sì. L'ora di decollo è molto importante in quanto noi dobbiamo dare la possibilità ai vari partecipanti di poter iniziare il loro percorso nel momento migliore della giornata. Non possiamo né farli partire troppo presto né troppo tardi. Ecco, questo aeroporto, volendo spendere due parole anche per l'aeroporto, ha delle condizioni che si prestano particolarmente a una gara di allianti? Sicuramente sì, è uno degli aeroporti dove le competizioni di volo a vela insieme a quello di Rieti è di percorso proprio per fare le competizioni più importanti. Noi abbiamo competizioni internazionali nelle quali vengono anche dall'estero, addirittura dalla Nuova Zelanda, fare le competizioni in Italia perché l'area centrale dell'Italia è orograficamente messa in modo che si ha la possibilità di fare delle competizioni molto selettive e competitive. Ecco, la vostra associazione di che cosa si occupa? L'associazione Gino Fischione si occupa della promozione della cultura aeronautica all'interno fisicamente di questo aeroporto ma all'interno di una serie di attività. Alla base c'è l'attività della Sunrise Aviation che è la scuola di volo, i mezzi e la gestione dell'aeroporto, l'aeroclub Gran Sasso d'Italia che è tra gli organizzatori di questa manifestazione e noi ci preoccupiamo di promuovere appunto la cultura aeronautica, organizziamo corsi di formazione, spingiamo i ragazzi a venire qua a trovarci in aeroporto perché si trovano un po' in questo contesto in cui nel piccolo si trovano davanti a un vero e proprio aeroporto quindi un'aerostazione come questa qui, una torre di controllo, una pista, raccordi eccetera. Durante l'anno abbiamo organizzato e stiamo organizzando incontri sulla sicurezza volo, sulla cultura aeronautica, sulla medicina che riguarda il volo e stiamo in corso di svolgimento con tappe trimestrali, una gara di regolarità, quindi tutti i soci della Gino Fischione possono partecipare a questa gara di regolarità che non è altro che mettere alla prova se stessi sulla capacità di volare entro degli spazi e dei tempi determinati e questa diciamo così è la nostra attività, stiamo ricevendo adesso tra qualche giorno un nuovissimo ultraleggero, il più avanzato sul mercato che permetterà ai soci che vorranno anche di poter volare su questa macchina tra l'altro modernissima. Percorsi stabiliti dopo il decollo, il tema della gara viene stabilito giornalmente in cui i piloti devono raggiungere obiettivi di posizione, quota e velocità stabiliti dal giudice di gara, una vetrina internazionale importantissima per l'immagine dello scalo aquilano che grazie alla nuova gestione va sempre più verso progetti ambiziosi. Simone Silveri si torna ad ospitare finalmente grazie alla vostra gestione una competizione internazionale in quello che è definito anche un po' un santuario del volo a vela, è una grande soddisfazione questa per la crescita dell'aeroporto di Preturo? Sì, esattamente come dici, l'aeroporto dei Parchi finalmente torna ad essere un posto di rilevanza aeronautica nel quadro nazionale. Sunrise Aviation e la famiglia Silveri hanno creduto molto in questo aeroporto, continuiamo a credere, l'obiettivo è chiaro, dobbiamo pian piano raggiungerlo. La competizione che stiamo ospitando conta presenze dalla Nuova Zelanda, Inghilterra e proprio un paio di giorni fa abbiamo ricevuto una delegazione dalle Filippine. Insomma, questo aeroporto sta tornando nel quadro internazionale. Ecco, la scuola di volo, però ci sono anche tanti progetti, diciamo, per rendere attrattivo sempre più lo scalo per piloti ma anche per famiglie. Ecco, volete che torni ad essere un punto di riferimento per la città, la vostra famiglia del resto ha una tradizione antichissima in questo senso? Sì, abbiamo tradizioni dai primi anni Ottanta in ambito aeronautico e è la nostra passione principalmente. E poi è giusto che questa città abbia di nuovo il suo scalo. Abbiamo iniziato con l'attività di scuola di volo a motore, abbiamo proseguito dagli ultimi due anni con l'attività di volo a vela e per il futuro abbiamo in servo dei progetti che mi riservo di pubblicare più avanti. Ecco, una competizione però internazionale di questo tipo, questo è uno dei pochi aeroporti in Italia, c'è anche quello di Rieti che però può ospitare, è particolarmente indicato ad ospitare queste competizioni, è sicuramente una vetrina perché il pilota che viene qui parlerà bene e ci si torna. Esattamente così, i piloti vengono con le famiglie, con inevitabili ricadute sul territorio per i giorni di competizione. L'area è un microclima che è unico nel Mediterraneo, l'Italia è incassonata tra due mari, i fronti di brezza dal tirreno dell'Adriatico convergono sulla catena del Gran Sasso, quindi si creano delle rotte energetiche di rilevanza aeronautica notevole. Martina Silveri, una competizione internazionale che sicuramente riaccende la luce sull'aeroporto di Pretturo, dal 2020 state facendo un grandissimo lavoro come nuovi gestori, c'è la scuola di volo che cresce, insomma possiamo dire che è un bilancio fin qui molto soddisfacente. Sì, ha detto bene, siamo molto soddisfatti, stiamo crescendo a piccoli e decisi passi mese per mese, ci sono sempre più iniziative e siamo felici del riscontro. Ecco, quest'aeroporto è uno dei pochi d'Italia ad avere proprio le caratteristiche giuste per ospitare una competizione internazionale di questo tipo, ci sono anche i piloti della Nuova Zelanda, cioè questo fa vedere l'Aquila, crea indotto oltre a potenziare l'aeroporto. Sì, dobbiamo dire che ci troviamo fortunatamente in un'area che è considerata un tempio del volo a vela e nei decenni passati con il trascorso dell'aeroclub dell'Aquila, con Corrado Ruggeri, presidente, questo era stato implementato e sfruttato e si era cresciuti molto sotto questo punto di vista e noi, soprattutto Simone Silveri, il direttore dell'aeroporto mio fratello, ci abbiamo creduto, abbiamo voluto crescere e sviluppare questo ramo del volo all'Aquila e è bello sapere che comunque ha avuto una risonanza internazionale, che da tutto il mondo e dall'Europa in generale c'è affluenza e voglia di volare questo posto meraviglioso. Ecco, otto giorni non sono pochi perché la competizione dura otto giorni, diciamo c'è molto interesse attorno a questo, a dimostrazione insomma che la vostra famiglia che ha una tradizione storica non ha mollato diciamo negli anni ed è intenzionata a portare qui altri progetti. Sì, il non mollare è dovuto alla caparbietà e la cultura e la passione di mio padre Claudio che da piccolini ci ha cresciuto con questa bellissima attività che ha fatto sempre parte della nostra vita e sì, siamo fieri e contenti, proseguiremo su questa linea perché sentiamo che per questo posto, per questa città e per i cittadini dell'Aquila sia un'ottima cosa. Nella giornata di sabato ci sono state le premiazioni alla presenza delle istituzioni e della signora Anna, vedova di Ferruccio Zecca, è rappresente anche il consigliere comunale che ha proprio la delega all'aeroporto Livio Vittorini. Oggi si conclude una settimana che ha visto una manifestazione di caratura internazionale valorizzare ancora di più il nostro aeroporto, una manifestazione di volo ad aria che ha rappresentato e ha consentito la conoscenza di questo aeroporto a livello, come appunto dicevo prima, internazionale. Questa amministrazione comunale supporta le tante attività che il gestore si sta impegnando a fare. Quest'anno il nostro supporto, la nostra risposta è quella di portare entro la prossima settimana in giunta finalmente il progetto di ampliamento con la realizzazione di un nuovo hangar e la realizzazione dei servizi di cui quest'area necessita per un completo sviluppo.